Perché alcuni investono all'estero? Che cosa porta un tuo cliente ad investire all'estero? Allora, l'estero serve molto per diversificazione, negli anni poi cambia, fino a qualche anno fa c'era, prima dell'euro era la storia che la lira non rendeva abbastanza, non era stabile. Poi c'è stato che chiaramente in Italia la situazione economica e politica non è stabile, seppur migliorava, e quindi comunque l'investitore un po' ricco, diciamo, la persona che ha dei risparmi, preferisce magari diversificare in un altro paese per stabilizzare il proprio investimento. E ci sono anche quelli che lo facciamo per questioni, diciamo, fiscali, ma non sono quelli di cui parliamo, diciamo. Quello succedeva soprattutto negli anni precedenti che io lavorassi, ma soprattutto con la lira probabilmente, e via dicendo. Adesso è più una questione anche di diversificazione, no? Perché era flagrante negli anni 2008-2013, dove tendenzialmente potevi avere una paura che l'euro andasse male, o viceversa se in zona dollaro, che l'euro salisse, e quindi diversifichi in un'altra zona divisa, perché ti permette di dire se salta tutto mi rimane qualcosa. Se sono in Italia e investi in Germania e salta l'euro, tendenzialmente sarò dalla parte giusta. Poi queste qui sono le considerazioni sulle grandi linee, però quella è l'idea. Le persone che hanno un certo matrimonio e che devono diversificare, poi dicono, bene, dove le metto? Se io non abito a Milano, per esempio, che è l'unica zona italiana che ha un'attività, diciamo, internazionale, se io non abito a Milano e sono di Roma, per esempio, piuttosto che in Veneto, voglio fare degli investimenti in zone che hanno una certa liquidità, ma stabilità e possibilmente progressione, magari vado a cercare capitali europei o altri posti, perché anche se sono in una zona ricca, tipo Veneto, non per forza avrò dei mercati interessanti sotto casa. E quindi vado a cercarli altrove. E cosa faccio? A posti cercarli a Milano, li vado a cercare a Parigi, a Londra, a quello che è, e poi li adatto alla mia situazione. E nel frattempo diversifico il mio patrimonio, vado a cercare opportunità diverse dalle mie, che possono non essere per forza migliori, ma quantomeno complementari. E quindi, vabbè, ho diversificato il portafoglio. Alcuni, potevano anche parlarne a cena, perché fa più figo dire che hai casa a Parigi che nella periferia della città. Però serve, perché anche quello, devo dire, serve a delle persone per invitare poi i clienti, via dicendo, far vedere. Però tendenzialmente ci sono proprio anche delle, c'è una base, un sottostante reale, no? Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi nella mail che trovi in Diascalia. Ciao!